Oggi siamo qua sul Govacation.com e ogni domenica di trenta mi metto in compagnia per la prima volta che nevica non avevo mai visto che nevicava eh si infatti lo volevo dire però tu mi hai anticipato no perché è la prima volta si infatti ti abita a caso mi piace tantissimo non so chi dobbiamo andare a fare ma andiamo guarda il pello come nevita ma appunto sto dirigendo questo faccio, faccio. Secondo me la slitta, la moto slitta, rovina un po' il tutto. Perché? Perché qui è bello, favolissimo. Perché non possiamo cambiare? Scusa mia. Sì, però è bello. Stava scendendo e sto salendo. Ai ai, se me lo sbattavo un po'. Papà, lo so detto di voi però. Mi è uscita dalla mia moto slitta e mi è tornata di me e mi mangio un bello sfumato. Ah, ok. Ok, vedete come mi mangio la minestra. Guarda papà. Forza, sto pronto a te e mi sto ribattando. mangio questa minestra mentre a Sofia Papino che mi dispiace, no, perché ti rovino sempre tutte le cose. Perché io per iniziare, per iniziare le cose, capito, ti rovino sempre. Non so. No, perché questa volta invece ti ho voluto dedicare un pittino di tempo mentre mangio una zuppettina. E ho finito. La finita è finita. Io non lo so, sono arrivato quasi alla cucuzione. Oggi andiamo a fare come prima attrazione il trick sul neve. Ragazzi ci mancano veramente pochissime attrazioni da fare per poi fare quello che vogliamo. Andare proprio a scoprire perché adesso ci siamo proprio addentrate nel fatto delle attrazioni, no? Ah, ok. Invece questa volta noi, cioè invece poi quando finiremo anche i resort neve andremo proprio ad esplorare e a fare le cose... Eh, perché io non l'ho mai fatta. Snis, 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 non l'ho mai fatta, quindi... Ok, sci o snowboard? Sci questa volta, io sci. Ok, anche io, anche io. E quindi appunto andremo ad esplorare, andremo a cercare le cose misteriose che si trovano all'interno dei resort, visto che non abbiamo potuto, non abbiamo avuto il tempo proprio di farli. E che ci stanno i misteri... scusami? Eh, quello vediamo. Ho visto proprio nel caricamento c'è scritto una cosa misteriosa. Sono nel resort, nel resort quello mare, che praticamente c'è uno strano meccanismo, ma noi dobbiamo capi... Ah, adesso ho già fatto le cose. Però noi dobbiamo capire come funziona, ok? Dobbiamo capire come funzionano queste... questo meccanismo... Ah, l'ha visto? Dobbiamo capire sempre appunto come attivarlo, perché non è veramente facile. E quindi niente, appunto perché... Come riprova? Che ha fatto? Devi far almeno 200 minuti. Ah, hai visto? E quindi appunto dobbiamo capire come funziona. Ah, questo? Però non è questo il momento, non ti dobbiamo pensare questo. Ma io sono un pirla loro, scusami eh. Mi ha fatto 532. Mi ha fatto schifo. Eh beh, a quanto pare. Sono nella classe, io non lo so. Non ci stavo a pensare veramente ai punti, vabbè. Vabbè, noi facciamo così, non perché dobbiamo per forza pensare ai punti, ma anche perché si è ricevato che ci diverterò a fare traccia. Che faccia io? Piancio. Quindi, riproviate, dai. Piancio. Ma scusa, per camminare ho questo qua, no? Che ti fa tipo più curve strette e salti più alti? Così di andare dritto, magari. Questo problema? Oh, vai, vai. Sì. Il fatto è che farli tutti e due in questo momento è un po' un casino, secondo me. Guarda che piccata. Abbiamo avuto un po' di problemi. Eh, appunto, c'è, saltiamo addosso da qua lì e avrebbe esso un problema, spero. E siamo là, a capello facciamo insieme. Vedi, già, hai fatto, sai, che ti è stato molto attento. Eh, sono stato distratto. Sono stato distratto. Vabbè, ma in effetti non te l'ho detto io e tu non te l'hai detto. Eh, no, io me ne ho visti qui. Eh, appunto. Ok, sono messo il numero. Sì. Vabbè. Hai fatto quattrocentosessanta, no? Ma perché si ti ha visto? Ce l'ho fatta e non so capito. Sei pure morto nel mentre, ma dettagli, ragazzi, non facersi caso perché è tutto normale. Quindi siamo riusciti a fare tutte e due. Io sono nella classe. Sì. Eh, nella classe quattro e tu nella classe tre. Eh, beh. Buono, buono. Vabbè, però va bene, dai. No, ho sbagliato. Che cosa? Allora, ho visto che l'abbiamo già fatto l'altro, ma sinceramente non mi ricordo perché adesso siamo riusciti a completare queste cose che dobbiamo fare almeno 200 punti. Ma sotto c'è una scuola, vedi? Ah, già l'abbiamo fatto. Ehm, però non mi ricordo. Che cavolo. Che cavolo. Ah, perché forse l'ho fatto io. Ah, io non lo so. Ai tempi antichi della guerra del 92. La guerra non c'è stata del 92. Ah, ok. Ah, oh, qua ti riusciamo, papà. Eh, beh. Io non ho mai fatto questo. Eh, qua siamo sulla montagna. Siamo sulla montagna? Sì. Siamo sulla montagna. Questo ci taglia? Eh, qua siamo sulla montagna. Come lo abbiamo fatto? Siamo più gente? Sì. Qua. 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 Scrippo queste cose che sto riferendo, non posso andare da nessuna altra parte. Oh, oh, dove hai? Ma stai nel bambino forti, eh? Io ho fatto 593 e tu 530. Eh, perché sono... Sono punti però abbastanza buoni. Io ho proprio trovato un punto dove... Proprio... Proprio... Proprio salta tanto? Sì. Dove fare molti punti. Ossia proprio la corsia, proprio centrale. La corsia? Quella centrale. Però va bene, dai. Siamo classe Giro, classe 3. Molto, molto buono. Va bene, va bene. E lo rifacciamo un'altra volta e poi cambiamo astrazione, insomma. Guardami davanti a me, io ho fatto tutte stellette. Eh. Ho fatto molto di punti. Ah, questi qua. Sì. Attendo però un minuto. Questa qua. Nooo. Ho messo questa volta. Vabbè. 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 No dai, ti ruinati. No dai, ti rinati. No. Si sta dentro. No dai, ti rinati. No dai, ti rinati. Guardatevi. 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 Uh. Mamma mia, ho trovato un altro. Papà, ho fatto 846 punti. Ho trovato un punto ancora più buono. Ancora, ancora più buono. Ancora, ancora più buono. 615, doveva fare? Oh mamma mia, ho fatto schifo alla casa. Guardatevi io. Vabbè, pazienza. Io ho fatto, ho trovato un punto proprio buono che sto dicendo. Ah? Si dai ragazzi, facciamo un'altra altra, me lo faccio dire a papà. Praticamente da quella corsia, grazie al fatto che io ho sbagliato. Hai abbandonato? Vabbè. Vabbè, lascio la perdere ragazzi. Comunque, al massimo ve lo faccio vedere quando non stiamo facendo l'attività. Cioè, anche lì normalmente. Eh? Comunque le corsie sono quelle, noi utilizziamo quelle corsie per fare delle attività. Sono quelle... Proprio... Si, dove tipo io ho preso la zuppa, no? Ah, ok. Sono diversi punti in cui appunto si può fare schifo. Allora. Ecco, ci manca l'ultima e finiamo papà. Quello si. Lo finiamo in questo episodio, ma non ci sono bravi. Ok, subitissimo clicchiamo in malo modo. Vai, 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 vai. E andiamo subito a fare quella attrazione che ci manca. Dov'è? Ok, quindi forse possiamo utilizzare direttamente questo. Ma... Dov'è? Dobbiamo andare un po'... Dobbiamo salire un pochino più sul mini, proviamo. Ma io stavo a saltare... Vabbè dai, staschiamo qua. Ma vai, dov'è? Come un po' di sciù. Inoltre ti faccio vedere, guarda qua. Si va qui, si va qui, si va qui. Poi si va qui, si va qui, si va qui. Ecco bravo, proprio tu sei andato, mi sono andata io prima. Mi sono riuscito. Non c'è, mi sono andato io per andare un pochino. No! Ah! Non c'è riuscito! Ma non c'è sì. Mi dimenticiamo. Mi dimenticiamo. Mi sentite... Mi sentite paura. Perché? Perché sei un pochino potente. guardatemi un po' l'elicottero che c'è da qua? non l'ho mai capito però ok abbiamo finito di fare i trick siamo divertiti dai andiamo su in montagna però pure che nevichi è ancora più bello yeah cagnolino togli dalle pavre poi tu mi stavo vabbè io passo sul ghiaccio nel mentre perché dobbiamo anche andare a cercare di vedere dov'è questa cavoletti di attrazione perché sinceramente non l'ho fatta bene dalla minumata sul ghiaccio poi si scivola ancora meglio lo so qua tangiano non dà c'è il dozzo lo so saltando grande ok poi ci sono arrivati su ghiaccio preparati va se non lo sbattiamo le persone questo è compato a me appunto vedete provare una pasta devo provare a capire forse qui qua andiamo a pastare se non fare così guarda che velocità che abbiamo andiamo ok adesso andiamo a fare shimogulz ma eh shimogulz che cavolo dovrebbe essere papà ma what non l'ho mai visto io sicuramente l'ho fatto perché l'ho dovuto finire delle sorte però non mi ricordo che qual è boh non lo so che ne so io che ne so quella cosa che non ho mai capito come cavolo si fa i sassi i tasti come subito a vedere perché non l'ho mai capito allora azione orizzontale avanzare lo sapevamo ok lo sapevamo ok con schizzo schizzo questo qua e basta questo altro invece che questo altro che non dobbiamo saltare quello che fa ma è il costo questo qua ma è il costo non mi ricordo che ci fa se non mi ricordo allora facciamo le persone qui 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 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 10 9 10 10 10 12 11 12 12 12 13 15 16 309 246 siamo migliorati questa volta devo essere sincera allora ragazzi io vi dico se mi ricorderò metterò un sondaggio con scritto visto che abbiamo finito tutti e quattro i resort dovremo appunto cominciare ad esplorare per bene ma seriamente per bene i resort che appunto abbiamo e appunto ci vedete nel sondaggio voi quale volete appunto che facciamo quindi il sondaggio il resort neve città montagna o mare decidete in modo che cominceremo ad esplorare per bene ma seriamente per bene non come abbiamo fatto così il sondaggio esatto il resort ma veramente per bene perché così abbiamo soltanto fatto le attrazioni e più di tanto ecco vabbè pure è venuto il gioco nel mentre parlo che appunto vedete guarda qua c'è qualcosa no vedi con la mano ecco e quello nel normale non c'è c'è nella cosa normale e dobbiamo anche continuare ad essere sempre più bravi anche con vedi qua ci sta diciamo con l'esplorazione subacquee appunto dobbiamo migliorare perché noi c'eravamo bloccati perché non potremmo andare avanti non eravamo abbastanza esperti piano piano mentre siamo abbastanza esperti mi raccomando ricordate sempre sul sondaggio se lo metterò e quindi niente ragazzi perché non ci stavo pure il tiro con le cucine la sicure quindi appunto ragazzi vedi un altro amaro pure qua rispondete al sondaggio quindi se volete fare il prossimo episodio mare in montagna neve o città quindi io vi passiamo prima giù in questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivete al canale se ha un trono di parto ciao a tutti